Allora, terzo circuito, prima seduto. Ti metti in quadrupedia, metti anche caviliere, metti qua, sul ginocchio, un manubrio tuo, ok, così. Devi fare slanci indietro, questo per i glutei. Ok? Vai su, reggio un po', vai giù. Devi sentire i glutei. Ok? E poi devi alternare con gli esercizi per l'addome. Allora, l'addome devi fare così, se mi vedi, ok? Allora, uno, ginocchio verso il gomito, prima con un lato, poi con l'altro. Ok? Così, così, ok. Uno, due. Uno, due.